Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, benvenuti. Oggi parleremo di fitness, di allenamento, di pesi e la grossa differenza che voglio portare oggi qui in questo discorso è appunto la differenza tra l'andare in palestra e costruirsi una piccola home gym che però permette di fare tutti gli esercizi diciamo di base e fondamentali per un corpo tonico forte e anche muscoloso. Allora partiamo subito con il discorso che è molto molto ampio nel senso che io dall'anno scorso, da quando ha iniziato il covid, esattamente da fine gennaio del 2020 ho iniziato a fare palestra a casa, cioè in verità non ho comprato una home gym, me l'avevo costruito già negli anni, in 7 anni ho riuscito a farmi una home gym basica, molto easy, molto semplice, molto basic e poi inserendo due nuove tipologie di attrezzatura che sono due semplici, ma due semplici coppie di manubri un po' più pesanti degli altri che già avevo, sono riuscito a farmi la home gym con una panca piana classica, una panca dell'Olympia gym appunto e poi ho preso 4 serie di manubri, 8 kg, 16 kg, 20 kg e 24 kg. Questi secondo me è più ovviamente un tappeto professional per addominali, quello molto importante per esercizi a terra corpo libero e questo secondo me è la base per ogni singola home gym, calcolate che potrà allenare la maggior parte dei gruppi muscolari con dei manubri e una panca e appunto io ho la fortuna con questa panca questi manubri di poter fare pettorali, dorsali, bicipiti e spalle e in più con il tappeto a terra faccio anche addominali, anche se addominali si possono anche fare su questa panca che ho appunto dell'Olympia gym, una panca professionale che tiene fino a 140 kg di peso, più a 40 dice, dunque sono circa 180 kg, garantita fino a 200 ma consigliano i 180 totali. Dunque non è neanche malvagio per una panca media, non è una panca delle migliori, una panca media. Dunque questo è un po' tutto il discorso che io sto cercando di fare perché appunto mi hanno chiesto come allenarsi a casa. Allora, allenarsi a casa secondo me è vantaggioso per il discorso tempo, per il discorso qualità e soprattutto in estate ti metti un ventilatore, accendi il condizionatore di casa, sei più tranquillo e hai meno doveri e obblighi di doverti muovere su e giù. Ovviamente non è un'attrezzatura da palestra, è un'attrezzatura in palestra sempre diversa, però comparano manubri professionali come ho comprato io e comprando appunto una panca, tu hai una certa qualità, un certo rilievo. Io prevalentemente uso una scheda, una scheda che mi sono fatto io, essendo ormai persa a treno a secondo livello da un po' di anni, ha una scheda molto molto tranquilla che parli nei principali gruppi muscolari, pettorali, appunto dorsali, bicipiti e spalle, addominali e corpo a terra. Per il discorso schede, allenamenti singoli, ovviamente ne parleremo nei prossimi video se volete. Comunque io dico un po' il mio allenamento basico perché appunto faccio due schede all'anno, faccio sei mesi, sei mesi, otto mesi, quattro mesi, dipende. E comunque sono prevalentemente delle spinte con manubri, delle alzate laterali sempre con manubri ovviamente, dei rematori con manubri in un certo contesto con un certo numero di serie un certo numero di ripetizioni abbastanza intense, a poi faccio i curl con i manubri per i bicipiti e poi il tricipite lo alleno a volte appunto lavorando sul pettorale oppure non alleno neanche fondamentalmente. E poi addominali a terra sia la versione skip che i plank. E diciamo che questo è un pochino il tutto del mio allenamento personale che però non sto piacitarvi a spiegarvi, ne parleremo una prossima volta e vediamo un attimino il tutto. Comunque posso dire che il passaggio da home gym a palestra normale si può fare, è molto completo, io mi trovo molto bene e non mi sono pinto di questa scelta, anzi nel tempo vorrei migliorare questa cosa e ampliarla il più possibile. Questo è un pochino la mia idea, se ci sono commenti e cose scritte qui sotto e parliamo anche di fitness da oggi, dunque iniziare molto a che la fotografia anche a parlare di fitness allenamento, soprattutto home gym, allenamenti a casa e possibili varianti sui vari tipi di allenamento, su quello che vuole raggiungere o ottenere. Ricordo che mensana in corpo è sano, dunque questo dice già tutto. Ragazzi un saluto e alla prossima, ciao a tutti e buona giornata.